Grazie a tutti. Anche quello di mandare una super sticker durante questa prova tecnica è una bella idea. Prometto che prima o poi cambierò la sedia perché sinceramente dà molto fastidio anche a me sentire lo scricchiolio e vedo tutti i vostri ok e quindi direi che possiamo proseguire. Gli amici che non scrivono mai in chat, che magari seguono senza scrivere perché non vogliono scrivere, magari che possono approfittare per provare la chat dando un ok così senza dare troppo nell'occhio. Va bene direi che partiamo con la diretta quindi vado a premere i tasti giusti e infatti ho sbagliato e quindi adesso torniamo. Ah no eccola qua che ha funzionato lo stesso anche se avevo fatto un miscuglio di tasti. Ciao, bentornati sul canale YouTube Associazione Culturale Maggiolina alla nostra diretta settimanale. Oggi è mercoledì, sono le 18 e siamo in diretta come ormai sempre da molto tempo. Una alla settimana, il mercoledì alle 18. Allora, in questo video ovviamente parliamo di computer e andiamo a vedere dal sito Amici di Maggiolina quello che vedremo oggi e quello che ci aspetta durante la settimana. Allora, parleremo alla fine di questo As Maggiolina On Tour. Avete già visto il video ieri e adesso c'è un aggiornamento, nel senso che c'è una pagina nel sito. Premendo qui potremo andare nella pagina del sito che ci permetterà di seguire il giro. Ma lo vediamo alla fine. Allora, lunedì abbiamo parlato di quella batteria, di quella power bank generatore solare che adesso vanno molto di moda. Ne avevamo visto uno di questi, ce ne sono ormai tantissimi. Si trovano anche nei negozi di hobbistica, nel senso tipo ibrico, ferramente e quant'altro. E anche in alcuni store di multimedia, quindi dove vendono computer, dove vendono lavatrici, dove vendono tutte queste cose qui. Ormai queste cose le avremo sempre più presenti. Faremo un altro video che ci aiuterà a capire come sceglierla. Perché effettivamente, siccome costano dei soldi, è anche bene sapere come funzionano. Allora, oggi parliamo delle email. Vediamo come si inviano, come si inviano in maniera corretta. Lo abbiamo già visto in piccoli episodi specifici, ma qui adesso vediamo l'invio classico con gli allegati e tutto quanto. Domani un video abbonati. Devo ancora farlo, quindi non so ancora di cosa parlerò. E lo vedremo domani. Venerdì le novità di Chrome. Sapete che la settimana scorsa abbiamo visto dove trovare le novità di Chrome. Abbiamo visto quali sono, ne abbiamo guardata una. Adesso facciamo un giro in quelle più vecchie. Perché ci dà la possibilità, questa cosa, di scoprire delle funzionalità di Chrome. Tipo lo zoom, tutti i modi che abbiamo per zoomare la nostra pagina. E ci sono anche altri comandi interessanti. Ne abbiamo guardate un po' perché di queste novità, tra virgolette, ce ne sono tante. Quindi seguirà un altro video. Sabato, video abbonati, CapCut, questa volta però su smartphone. Quindi ormai ci siamo lanciati da tempo nel video editing dei nostri video. Adesso lo facciamo sul cellulare. Nel senso che a volte capita di dover fare tre videini così, metterli insieme, aspetta che lo mando sul social, eccetera. Non è che posso prendere il computer, fare il giro, tutto quanto. Si fa con CapCut, versione smartphone, gratuita. E quindi vediamo come, innanzitutto, non mi ricordo se come installarlo, sì, come installarlo sul nostro smartphone perché funzioni bene tutto e quant'altro. Perché io sono già andato avanti e sono già pronto per registrare anche la prima, diciamo il primo editing video. E quindi sono già col pensiero lì. Però intanto qui l'abbiamo installato e messo in funzione perché c'è una particolarità che se ci sfugge poi non ci permette di fare dei video belli. Allora, andiamo subito alle email e cominciamo a mandare gli allegati. Aspettate che devo anche andare in chat perché avevo cambiato finestra accidentalmente. Intanto Edo, grande Edo, ha disegnato la riga così poi andiamo a leggere. Poi se avete le domande rispondiamo anche su questo Maggiolina On Tour. Qualcuno magari ha visto che vuole sapere qualcosa di più, eccetera, eccetera. Chiedetemi perché è una cosa che avverrà presto. Partiremo domenica per questo Maggiolina On Tour e lunedì saremo già pronti per incontrarvi. Allora, andiamo su una nuova pagina internet, quindi nuova scheda del browser e devo mandare un'email. Allora, i gestori di post abbiamo dato un'occhiata, abbiamo visto che sono differenti tra loro. C'è Gmail, quindi se premo qui ho il mio Gmail con l'account da esperimento che è ancora abbonato a Google One e c'è anche Yahoo Mail, quindi premo una nuova scheda. Ce ne sono tantissime, lo sappiamo, ma noi abbiamo intirato in ballo anche Yahoo Mail così per iscriverci, per vedere come si fa e quindi adesso proviamo anche qui a lavorarci. Vi faccio notare che questa Yahoo Mail l'abbiamo fatta ormai 15 giorni fa, 20 giorni fa, non so se 2 o 3 settimane fa e quindi questa email esiste da 2-3 settimane. Non ho ricevuto pubblicità, quindi tanto è buono che loro non me ne mancano. Quindi sappiamo che loro non mi mandano la pubblicità. La assorbo qua nei dintorni, ma apparentemente in 2-3 settimane non è arrivato niente. E non è arrivato ancora spam, altri messaggi, eccetera. Questo perché? Perché io non l'ho ancora detta a nessuno, non l'ho ancora usata mai da nessuna parte. Se le scrivo nei siti internet, sotto ai video YouTube, delle varie cose, poi arriva lo spam perché ci sono dei programmi appositi che girano, navigano in internet e tirano su tutti gli indirizzi email. Quindi se il tuo indirizzo email è finito pubblicato da qualche parte, quello è uno dei motivi per cui ricevi un sacco di pubblicità, spazzatura indesiderata e continui, continui, continui. Se invece non la dai mai a nessuno, tutto va bene. C'è da dire che quando cominci a iscriverti di qua, iscriverti di là e accetto la privacy e quant'altro, poi casualmente cominciano ad arrivarti i messaggi e quindi vuol dire che quel gestore lì, di quella cosa lì a cui ti sei iscritto, magari l'email la comunica ad altri. Di solito ti fanno sempre scegliere di spuntare eccetera, ma noi non leggiamo, sono dei papiri lunghissimi e quindi si finisce per accettare per quello. Allora, voglio mandare un messaggio nella maniera più semplice. C'è scrivi, premo su scrivi e adesso mi si è aperta la pagina per scrivere. A chi voglio scrivere? A è l'indirizzo, è il campo, la casellina in cui andare a scrivere, più importante di tutte. Perché se sbaglio a scrivere lì, il messaggio non arriva. Se sbaglio l'indirizzo di mio fratello, il bottino non gliela porta la lettera, perché lui va da un'altra parte. Quindi è importante l'indirizzo. Lo devo sapere, me lo deve aver detto il destinatario, perché non posso inventarmelo. Ma si chiama Mario Rossi? Beh, mariorossichiocciola.gmail.com No, possono esserci un miliardo di varianti. Deve avervelo detto lui. Non c'è un elenco degli indirizzi mail. Per fortuna, oserei dire, perché già riceviamo un sacco di mail inutili lo stesso. Ciao Benedetto, grande Benedetto che ci sostiene da 16 mesi con l'abbonamento. Abbonamenti, super chat, super sticker, super grazie, Paypal, via banca, eccetera. Tutti questi sostegni sono per noi indispensabili. Quindi grazie infinite ragazzi, quando fate una di queste cose sappiate che per noi è veramente importante e ci permettete di essere qui. Quindi grazie, grazie, grazie. Allora, l'indirizzo lo devo sapere, ok? Per cui non me lo invento a caso. Per fortuna io ho uno, lo so, ed è MaggiolinaTest. MaggiolinaTest. Notate che intanto il gestore di posta cerca di indovinare quale sarà l'indirizzo in base agli indirizzi che avete utilizzato in passato. Quindi evidentemente io l'ho scritto, o comunque il mio browser lo sa e me lo propone. Ma se no, in questo caso è MaggiolinaTest.chiocciola.yahoo.com ma è questo indirizzo qui, quindi è sbagliato. Io voglio scrivere a MaggiolinaTest.chiocciola.gmail.com Quindi al di là del suggerimento bisogna un attimo verificare. Perfetto. Quindi per il fatto che io ho scritto l'indirizzo, adesso questo messaggio, quando premerò invia, sarà già, diciamo, mandato e arriva già se ho scritto l'indirizzo corretto. Se ho sbagliato a scriverlo, ovviamente va da un'altra parte o non arriva. O arriva qualcun altro, che è peggio, o non arriva nessuno e vabbè pazienza. Quindi attenzione a questa cosa qua. Una volta che ho scritto l'indirizzo, non ho finito. Devo ancora finire di scrivere l'email. Devo mettere l'oggetto. L'oggetto è l'argomento del messaggio. Cosa scriverò? Un saluto? Un augurio? Una richiesta di informazioni? Una richiesta di assistenza tecnica? Che cosa scrivo? E quindi qui, nell'oggetto, metto l'argomento di modo che la persona che riceve il messaggio può farsi un'idea di che cosa contiene quell'email lì. Perché magari ne riceve tante. perché magari dà una priorità a un messaggio piuttosto che a un altro. È sbagliato non scrivere nulla. L'oggetto in bianco spesso viene cestinato automaticamente dal sistema. Quindi magari io non lo vedo neanche. Non è che lo butto via da solo. Magari non lo vedo neanche. Perché ci sono tutti gli antivirus, tutti i software di controllo. Quindi cercano di scremare le cose che sono sospette. e quindi è importante che voi scriviate un oggetto scritto bene, in italiano, corrente, quindi la maiuscola, la minuscola, i punti, le virgole, eccetera, se servono, ma corto. Non è che nell'oggetto dovete dirgli ma volevo informazioni sul browser quando premo sulla scheda poi dopo si apre un'altra finestra, eccetera. No, l'oggetto è brevemente l'argomento del messaggio. Quindi scrivo saluti in questo caso e poi qui sotto ho tutto lo spazio che voglio per scrivere un'email. Ricordatevi di andare abbastanza al sodo almeno io che ne ricevo tante preferisco che si vada direttamente al sodo. Non serve che mi raccontiate tutta la vostra vita anche se da un contesto e quindi chiaramente ci possono essere delle differenze tra il farlo e no però valutate bene il discorso perché ormai riceviamo tantissimi messaggi e quindi si cerca di con la dovuta cortesia e forma letterale di arrivare al punto e fare le cose. Quindi in questo caso vado a scrivere ciao maggiolina test maggiolina test in questo caso facciamo finta che sia una persona mi fa piacere mandarti un caro saluto saluto e farti i complimenti me li faccio da solo non va mai male anche allo specchio possiamo farci i complimenti un caro saluto e farti i miei farti i complimenti e basta complimenti punto e via non c'è una pagina qui non c'è un foglio io potrei continuare a scrivere va a capo da solo eccetera la persona dall'altra parte non vede l'impaginazione così come la vediamo noi o meglio se vado a capo io vede così se invece continuo a scrivere poi a seconda del gestore di posta che ha lui l'impaginazione potrebbe essere diversa quindi qui non abbiamo le regole della tattilografia un margine da raggiungere eccetera cerchiamo di di andare a occhio di fare una cosa decente noi stacchiamo magari i paragrafi eccetera ricordatevi sempre di salutare e firmare magari non salutate se non volete ma la firma mettetela perché ad esempio qui scrive maggiolina test yahoo e chi ne sa quello di là chi sono io come mi chiamo eccetera tantissime volte nascono dei qui pro quo nel senso delle delle incomprensioni dovute al fatto che non ci scriviamo come ci chiamiamo e quindi fatelo lo stesso anche se lo scrivi a tuo fratello magari firmati che comunque è una buona è una buona prassi allora e va bene tanti saluti e complimenti in questo caso visto che già è un saluto il messaggio mi firmo direttamente Daniele ci metto anche Daniele Y così facciamo finta che mi chiamo Daniele Y yahoo eccetera così distinguiamo le firme dalle altre cose però si mette la propria firma il nome il nome cognome se è una cosa più ufficiale eccetera però insomma ci si firma ok e qui qui ci siamo basta invio il messaggio questo è senza allegato messaggio così e ciao quindi faccio un invio e il messaggio è andato ok il messaggio è stato inviato è arrivato in linea teorica si arriva subito dopo qualche istante a volte magari un gestore più lento rispetto ad un altro quindi magari impiega del tempo qui però in poste in arrivo di gmail c'è già un 1 quindi messaggio arrivato a destinazione prima questo 1 non c'era quindi è già arrivato in un baleno andiamo a vedere vado a vedere la posta e c'è Daniele Castelletti eccetera saluti ecco qui si vede già chi è il mittente quindi va perché mi fai firmare le cose tanto si vede che sono io ma no non si vede sempre dipende da come tu hai gestito la tua casella di posta quindi ragazzi firmatevi sempre comunque dentro la lettera vi firmate sempre anche se fuori c'è scritto il nome e cognome va bene non la apro questa email qui adesso non la apro ne voglio spedire un'altra la spedisco sbagliando l'indirizzo volutamente per vedere cosa succede vado su scrivi in A scrivo l'indirizzo sbagliato allora maggiolini maggiolini test chiocciola gmail.com ho sbagliato di una lettera invece che maggiolina ho scritto maggiolini gmail.com perché non mi dà l'errore perché non lo sa ragazzi formalmente il messaggio è giusto c'è la chiocciola c'è l'indirizzo c'è tutto è giusto formalmente il messaggio è giusto quindi il postino e in questo caso Yahoo non può sapere che il destinatario indicato non esiste ma lui vede che la cartolina è perfettamente compilata ci sono tutti i dati affinché possa funzionare e lui la manda la prende in carico e poi la porta l'oggetto in questo caso mettiamo vediamo richiesta informazioni e qui vado a scrivere ciao maggiolina test qual è il tuo dolce preferito qual è si scrive senza l'apostrofo qual è allora ci va l'altro aiuto forse ci va lo spazio ecco ma il tuo dolce preferito quando hai un dubbio su come si scrivono le cose caspita adesso come veniamo fuori da queste cose qua diamo computer ragazzi nuova scheda come si scrive qual è come si scrive qual è e qui viene già qual è vediamo cosa dicono e la grafia corretta dell'italiano contemporaneo è qual è senza apostrofo la grafia qual è anche se molto diffusa è scorretta perché non si tratta di un caso di elisione ma di troncamento e quindi qui uno può anche imparare delle cose in più questa scheda quindi abbiamo scritto giusto l'apostrofo va in là quindi vediamo se è giusto e no ho messo l'apostrofo sbagliato è questo ok qual è il tuo dolce preferito chi lo sa lo scriva nei commenti vediamo se se lo sapete qual è il mio dolce preferito dovreste almeno chi c'è da più tempo le maggioline italiane dovrebbero saperlo allora Daniele anche qui ho già salutato facciamo Daniele e basta io ho sbagliato questo messaggio ok perché abbiamo scritto l'indirizzo sbagliato lo invio e adesso il messaggio va presumibilmente a un certo punto il postino dovrebbe accorgersi che il messaggio non può trovare destinatario perché è sbagliato e vedo già che qualcuno ci state tirando vicino qualcuno ha già indovinato e non indovinato lo sa e quindi lo sa dicevo il postino dovrebbe avvisarmi del fatto che il messaggio non è arrivato a destinazione in questo caso dovrebbe essere il postino di Yahoo vediamo diamogli il suo tempo qui è rimasto uno intanto mandiamo un allegato abbiamo visto che nel titolo c'era scritto anche allegati vediamo come si manda un allegato allora scrivo a questo punto io in questo messaggio metterò anche un allegato un allegato è un file che io vado ad attaccare al mio messaggio e questo file viaggia insieme al messaggio quindi è una specie di come dire di pacchetto spedisco un pacchetto al mio al mio interlocutore grazie infinite benedetto per l'uso della super chat grazie 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 e quindi un file che io ho già preparato nel mio computer perché se è nel momento di mandare il tutto devo anche andarlo a cercare diventa lunga devo già in linea di massima anche se non è obbligatorio più sei esperto e più cose puoi fare all'ultimo minuto ma se sei un attimo una persona che deve un attimo ancora orientarsi prepara il file già nel tuo computer devi sapere già come si chiama ad esempio se è preventivo quando vai a cercarlo non deve esserci preventivo preventivo 2 preventivo giusto preventivo ok preventivo Mario preventivo Giuseppe eccetera perché poi quando sei lì dici preventivo ma sarà l'uno il due il giusto l'ok il Mario e quindi dici ma posso vederlo no devi già saperlo prima quando sei qui devi aver già visto qual è il preventivo che vuoi mandare devi già sapere esattamente il nome e non devono esserci dubbi di alcun genere perché altrimenti perdi tempo fai dei pasticci e mandi le cose sbagliate allora il procedimento per mandare l'email con l'allegato è uguale a tutti gli altri indirizzo oggetto testo solo che in più si mette l'allegato che è questa la graffettina vado ad attaccare al mio messaggio con una graffetta l'allegato un file una cosa da metterci in più ok e cosa succede succede che a me succede che io faccio tutto scrivo l'oggetto scrivo l'indirizzo scrivo l'oggetto un bel messaggino e poi premo invio e dopo aver premuto invia il messaggio è andato ma mi sono dimenticato l'allegato ma quante volte mi sarà capitato di mandare l'email senza allegato e poi se te ne accorgi subito e per fortuna di solito mi capita dirmi ah ok devo non gli ho mandato l'allegato aspetta che gli mando un'altra email e devo fare la figura di quello che non sai mandare i messaggi e dirgli ah no devo riscrivere tutto eccolo qua l'allegato quindi adesso sono diventato un po' più furbo ma non tanto quel pelino per dirmi ok l'indirizzo e l'oggetto e il messaggio li scrivo dopo non c'è un ordine prefissato posso fare come ne ho voglia io prima metto l'allegato quindi premo su allega file un clic solo e adesso vediamo che cosa mi dice allora ogni gestore di posta ha la sua moda ha le sue possibilità qui vedo che c'è condividi file da google drive condividi file da dropbox che è un'altra nuvola per capirci allega file dai mail recenti allega file dal computer io non ho mai usato questa casella di posta per mandare un allegato quindi non sapevo che cosa avrei trovato e adesso ho trovato grosso modo ho capito so cos'è google drive qualcosa ci siamo detti magari approfondiremo so cos'è dropbox so cos'è un'email recente e anche so cos'è il mio computer quindi scelgo di conseguenza la funzionalità classica più semplice anche se sempre meno usata però quella più semplice è allega file dal tuo computer dal computer poi in seguito impareremo anche le varie opzioni premo su allega file dal computer clic si apre una finestra una finestra del computer quindi questa è una finestra di windows 11 che posso rimpicciolire che posso spostare che posso fare andare su fare andare in giù posso andare a cercare qualcosa d'altro qui sono in download ma io posso andare in immagini posso andare in documenti questo è il mio computer e mi ci muovo come voglio ecco perché devo sapere dov'è il file e come si chiama perché altrimenti qui dopo sto dei giorni e poi sbaglio e mando qualcosa d'altro mando una foto vado sempre in giardino quando faccio questo esempio e mando una di queste foto qua allora quando mando qualcosa occupa spazio tu immaginati il postino con il motorino lì fuori che aspetta che tu gli dai il pacchetto se gli dai un pacchetto troppo grande non ci sta sul motorino devi dargli un pacchetto che ci stia nel suo cestino se è troppo grande ti dice no no non se ne parla non puoi mandarlo e quindi tu ti devi preoccupare di mandare diversamente allora la nuvola è la soluzione lo mandi sulla nuvola e dalla nuvola lo mandi lo mandi in giro vedremo in seguito sappi comunque che c'è un limite di portata del motorino del postino qual è questo limite dipende dal postino e quindi dipende dal gestore di posta non ti posso dire a priori qual è il limite il tuo gestore di posta ti informa se riesce a portarlo oppure no se tu scegli un file troppo grande oppure scegli troppi file perché dici ma si dai gli mando 500 foto così siamo a posto queste sono le foto delle vacanze ciao e non ci stanno 500 foto sul motorino del postino quindi ti dice no non si può mandare tutta questa roba e quindi ti devi preoccupare diversamente sappi comunque che se il tuo interlocutore ha un gestore di posta diverso potrebbe anche comunque non ricevere e quindi il tutto potrebbe non andare bene ma in genere insomma se ti dice che è troppo grande ovviamente non ci sta ma tu sai che non mandi un pacco di roba enorme perché poi la persona dall'altra parte lo deve ricevere e quindi dopo se ci impiega mezz'ora scaricare il tutto magari ti pensa non amichevolmente quindi mandi poca roba se sai che è tanto ci preoccupiamo della nuvole di altri sistemi mandiamo un link ma vedremo in seguito allora fiore questo che fiore è qualcuno mi scrive che fiore è io me lo ricordo così per caso perché ricordo dove l'ho fotografato se qualcuno sa che fiore è questo lo scriva in chat così facciamo girare un po' la chat e magari interagiamo allora ho selezionato il file potrei clic clic cliccarci sopra due volte oppure un clic e poi apri a piacere ho fatto un clic adesso dico apri il file viene caricato quindi la mia linea telefonica lo carica questa linea blu fa vedere il tempo di caricamento e adesso è nell'email adesso anche se io premo invio perché mi sbaglio perché sono impazzito l'email non parte perché non c'è l'indirizzo e quindi se sono furbo l'indirizzo lo metto per ultimo quindi vado in oggetto e scrivo ti mando un fiore un fiore e adesso vado a scrivere ciao ciao Mario perché scrivo a Mario ti mando mando una foto del fiore dell'ultimo fiore del mio giardino una foto beh vabbè dell'ultimo fiore del mio giardino quando ce l'avevo il giardino quando ne avevo uno ok premo invio e adesso saluto già vabbè ho già detto ciao Mario vabbè facciamo subito Daniele e stop e mando il messaggio ah no vedi che adesso mi viene a dire adesso mando il messaggio no devi mettere l'indirizzo se invece io l'indirizzo lo mando prima avrei già sbagliato tre volte perché avrei già mandato il messaggio senza scrivere senza l'oggetto senza il fiore e quindi messaggio mal fatto allora maggiolina test chiocciolagmail.com e poi dico invia e adesso il messaggio è andato allora eccolo qua io ho mandato il messaggio tutto a posto nel momento in cui ho mandato il messaggio Yahoo ha detto guarda che c'è un messaggio per te questo mailer demon qui è il postino che mi dice c'è un un problema una notizia di fallimento e andiamo ad aprirlo quindi sempre quando tu ricevi un mailer demon uno di questi messaggi qui è il postino che ti diciamo dice che qualcosa è andato storio è qualcosa è andato storto è sempre così diciamo che qualcuno potrebbe approfittare di questo è sempre così e ingannarti mandarti un messaggio come mailer demon eccetera o perlomeno un qualcosa che ci assomiglia e tu vai a aprire il messaggio lo leggi clicchi sui link perché dici caspita cosa ho sbagliato dove ho sbagliato e dire a qualcuno che intanto ti ha messo qualcosa nel computer ti ha fatto scaricare eccetera perché ti ha ingannato quindi sempre all'occhio quando dobbiamo cliccare e toccare cose all'interno di un'email strana però in questo caso è il postino apro il messaggio così lo vediamo e in inglese mi dice sta cosa qua mi dice guarda che non è non è andato a buon fine allora una delle cose che dirò nel video di venerdì è questa le news le news di Chrome è questa se io seleziono faccio tasto destro e dico traduci selezione in italiano qui mi dice siamo spiacenti non siamo riusciti a consegnare il tuo messaggio al seguente indirizzo l'account email che hai provato a raggiungere non esiste prova ricontrollando l'indirizzo email del destinitario per errori di battitura o spazi non necessari quindi sta dicendo ma che hai sbagliato qualcosa e qui posso chiudere e siamo a posto quindi venerdì vediamo anche tra le altre cose anche questa quindi io so che un messaggio non è arrivato a destinazione perché il postino me lo dice te lo dice sempre quindi tranquillo che se il messaggio non trova il destinatario perché non c'è perché non esiste tu ricevi questo messaggio qui quindi la mia email è arrivata sì se non hai ricevuto questo messaggio la tua email è arrivata se hai sbagliato l'indirizzo e hai azzeccato sfortunatamente l'indirizzo di un'altra persona se quello là è gentile capisci che non è per lui magari ti riscrive vedendo che il messaggio era importante e ti dice guarda che forse hai sbagliato a mandarlo lo sai e altrimenti se lui la butta via te non sai niente e sei a posto ok quindi abbiamo mandato i nostri messaggi e ci abbiamo messo dentro anche l'allegato andiamo a vedere cosa è successo quindi vado in posto in arrivo dall'altra parte io ho tre messaggi intanto qualcuno che mi manda un messaggio portate pazienza lo cancello perdonami lo cancello prima perché vorrei mantenere la tua privacy ormai mi hai mandato il messaggio l'indirizzo si è visto e questo è un email di esperimento scrivimi a info chiocciola associazione maggiolina.it perché quello è il luogo dove leggo i messaggi è il nostro è il nostro indirizzo email ufficiale scrivimi lì e provo a risponderti ne ricevo un milione cerco di risponderti se ci riesco nel senso che se so la risposta insomma scrivimi lì perché quello è il posto tutti gli altri indirizzi che trovate in giro quando faccio un video ma il telefono e poi non li guardo ragazzi perché sono esperimenti vari non posso seguire tutte quante quindi il nostro indirizzo ufficiale è info chiocciola associazione maggiolina.it presumo che tu l'abbia mandato prima non ho guardato l'orario però volendo ce l'ho ancora nel cestino allora ho ricevuto due messaggi Daniele Castelletti saluti vado ad aprirlo questo è il nostro primo messaggio allora vediamo cosa dice oh fai attenzione a questo messaggio Daniele Castelletti non ti ha mai inviato messaggi utilizzando questo indirizzo email evita di rispondere a questo email se non dopo aver contattato il mittente in altri modi per assicurarti che l'indirizzo email sia legittimo ma questa cosa qui evidentemente è Yahoo che la dice ma è chiaro che il 90% 95 98 99% dei messaggi che ricevo almeno io che li ricevo da voi è di persone che non mi hanno mai scritto quindi se per tutti mi dice questa roba qui ok e certo devi farti come dire devi fare attenzione a guardare il messaggio e quindi vabbè qua gli dico sembra sicuro sembra sicuro e perché so che è sicuro ce lo siamo mandati noi eccetera e questo è il nostro messaggio questa informazione del sembra sicuro gli serve a lui perché la prossima volta non mi fa questa storia per questo indirizzo qui perché vede che va bene è la prima volta che vedo un gestore di posta così preoccupato in realtà devi esserlo tu preoccupato nel senso guarda l'oggetto prima di aprire il messaggio quando sei qui tu guardi il mettente chi è questo messaggio chi è che mi manda questo messaggio l'oggetto che cosa ci ha scritto qui era saluti qui è ti mando un fiore poi il resto è un inizio del messaggio quindi se tutto è congruo lo apro se non è congruo se è una cosa strana se è cestino e lo butto via direttamente senza aprirlo perché così in linea di massima non ho fatto guai se invece comincio a aprirlo un po' mi ingannano un po' clicco un po' magari prendo un virus eccetera quindi bisogna proprio gestirsi e vincere questa cosa allora andiamo a vedere il fiore che mi ha mandato che mi ha mandato Daniele apro e anche qui stesso discorso ragazzi mi sembra un po' un po' che siate un po' preoccupati allora sembra sicuro bello che è sembra sicuro non posso dirgli è sicuro e qui adesso c'è il messaggio l'ho ricevuto c'è il fiore e hanno gli stessi comandi di Google Gmail quindi scarica mettilo su Google Drive mettilo su Google Foto o clicca qui per aprirlo e ne parleremo in una foto in un video specifico però per adesso abbiamo mandato il nostro allegato e è andato tutto bene qui lo vedete bene il fiore adesso potete indovinare ma ho visto che qualcuno ha già indovinato va bene allora lasciamo qui il fiore un attimo così lo guardate e andiamo a vedere quello che mi avete chiesto in chat prima di fare di dire quello che mi avete chiesto in chat diciamoci anche due cose allora sul discorso Maggiolina un tour il giro Maggiolina degli amici chiamiamolo così allora chiudo la posta chiudo così e basta e vado sul sito Amici di Maggiolina vi ricordo che il sito Amici di Maggiolina è riservato agli amici sostenitori di associazione Maggiolina quindi super chat super streaker abbonamenti paypal bonifici e cose varie chi ci ha sostenuto ha accesso al sito Amici di Maggiolina nel sito Amici di Maggiolina riordiniamo un po' i nostri video un po' come uscita settimanale quindi cos'è uscito lunedì cos'è uscito martedì cos'è uscito la settimana scorsa ma anche tramite un motore di ricerca dei nostri video qui scrivi l'argomento anche tramite un elenco di tutti i corsi dove trovi i video in ordine cronologico e raggruppato per argomento poi cos'altro c'era e vabbè poi ci sono un sacco di altre cose e ci sono ecco anche il calendario dei video ma caspita 15 giorni che sono via cosa ha fatto Daniele in questi ultimi 15 giorni calendario dei video 2023 maggio e questi sono i video che Daniele ha fatto in questi ultimi giorni e mi dico questo sì quello no quello altro guarderò dopo ci clicco sopra e mi guardo il video e quindi riesco a trovare tutto vabbè poi ci sono le foto questa volta andremo le nostre foto non andremo ad integrarle strada facendo in questo in questo tour e vediamo allora quindi il sito amici di Maggiolina è riservato agli amici sostenitori ci si arriva dopo essersi iscritti tra virgolette si va sul sito associazionemaggiolina.it pagina amici quindi sono amici gli abbonati super chat super sticker diciamo paypal e banca tutti quanti in qualsiasi sostegno è un amico legge tutto quanto e compila il modulo di richiesta tessera a quel punto noi riceviamo un email di richiesta di ingresso diciamo mi dite guarda vorrei partecipare e vi rispondiamo voi dovete confermare l'intenzione di partecipare accettando il nostro invito non comporta nulla nel senso che non vi mandiamo nei mail niente però per farvi accedere diciamo è un gruppo di accesso al sito c'è bisogno che abbiate manifestato il vostro diciamo desiderio di entrare perché ci sono anche persone che ci sostengono e compilano tutto ma loro non interessa perché dice ma io non voglio gestirmi in un certa maniera ti ho sostenuto basta così e va benissimo ragazzi e quindi loro non accettano l'invito poi dopo aver accettato l'invito c'è entra ora comunque c'è qui questo video come funzionano sito amici abbonamenti e questo vi racconta tutto quest'area rossa diciamo associazione maggiolina.it amici è pubblica e quindi tutti quanti entrano se non avete fatto questa cosa quando andate su entra ora vi da errore 404 perché non vi riconosce non siete inseriti nell'elenco delle persone che possono accedere va bene allora nel sito amici di maggiolina appare oggi questa voce as maggiolina on tour segui la pagina del tour scopri dove puoi incontrarmi personalmente e partecipa alle videoconferenze clicco per andare a vedere cosa c'è dentro eccolo qua e c'è questa pagina qui nuova di oggi e in pratica serve di supporto di punto di riferimento per la cosa che vi raccontavo nel video di ieri ho pensato di fare un giro per l'Italia in luoghi che ovviamente mi interessa vedere per me nuovi quasi tutti per me nuovi per essere un po' più vicino di solito facciamo il pranzo ufficiale associazione maggiolina una volta all'anno ultimamente non si è più fatto perché ci è stata tutta questa confusione ecco cercavo di non dire parole legate a quello che abbiamo vissuto e quindi si è sospeso tutto quattro anni fa è stato l'ultimo pranzo ufficiale e questa volta invece di fare un pranzo in un posto che poi vengono solo quelli che sono nei dintorni eccetera faccio un giro faccio un giro per l'Italia mi vedo un po' di cose e intanto saluto chi vuole salutarmi quindi partirò domenica 28 se tutto va bene dico sempre perché fa un po' fa un po' strano fare questo viaggio in solitaria ma poi ci siete voi quindi confido sulla vostra compagnia nei vari giorni o comunque anche online volendo e quindi la prima tappa sarà a Siena ed intorni arriverò domenica io in questa zona qui ma cominciamo lunedì così abbiamo tutta la giornata e lunedì io sarò lì vado a girare vado a vedere cose eccetera se te sei in zona se hai voglia di salutarmi eccetera mi mandi un whatsapp qui poi metterò il numero ormai so che lo sapete già tutti il mio numero comunque insomma volevo attenirmi un filo di privacy dopo la diretta metto il numero per chi non lo sa mi mando un whatsapp un sms o un telegram quello che volete non chiamatemi perché il mio telefono ormai suona così sempre tant'è che ormai non riesco più a rispondere a tutte le chiamate mi mandate un whatsapp io li leggo e se siamo incastrati ci vediamo volentieri facciamo un aperitivo mangiamo qualcosa facciamo quello che volete e quindi la prima tappa Siena si parte lunedì da Siena o meglio parto domenica ma lunedì saremo a Siena e via strada facendo in questa pagina ci saranno degli aggiornamenti nel senso che lunedì sono a Siena martedì sarò ancora a Siena sarò da un'altra parte dove vado eccetera vi aggiornerò quindi se siete interessati a vedere da dove passo magari viene nella mia città o magari caspita passa proprio davanti mi scrivete guarda ma io sono qui e io mi fermo ovviamente così ci vediamo sappiate che potete anche darmi dei suggerimenti se dite ma vedi qua non passi aspetta vieni anche qui guarda che qua c'è un bel posto da vedere ben vengano ben vengano i suggerimenti quindi seguiranno aggiornamenti strada facendo sono graditi suggerimenti su luoghi da raggiungere posti da visitare nonché aperitivi da fare insieme quindi vi aspetto ragazzi anzi o meglio vi raggiungo ragazzi ci proviamo allora poi il pranzo ufficiale chiamiamolo così si terrà l'ido di ostia tra le varie tappe che toccherò ci sarà l'ido di ostia e lì ci fermiamo per incontrarci a pranzo quindi chi vuole dire ok mi muovo e vado un giorno vado a trovare Daniele andiamo a mangiare insieme l'ido di ostia non sappiamo dove lo decideremo insieme intanto cominciate a mandarmi dei suggerimenti e non sappiamo quando perché prima farò tutto il giro e non voglio dire oggi deve essere qui domani mattina deve essere di là poi dopo domani non voglio avere tutta questa programmazione qui di dove andare eccetera ammetti che poi c'è un posto più bello c'è un amico che mi invita da un'altra parte aspetta che ci prendiamo il tempo che serve quindi quando vedo che mancano quei 3, 4, 5 giorni dico ragazzi allora dai fissiamo la data quella lì e poi proviamo a prenotare nel frattempo mandatemi il nome ditemi eh guarda a me piacerebbe venire non è impegnativo solo per sapere quanti siamo cioè siamo in 5 o siamo in 25 perché allora cambiano un po' i discorsi e poi quando è ora di stringere di prenoto mi direte sì no eccetera e basta e quindi questo è diciamo il nostro il nostro punto ah e qui dicevo ragazzi io ho una situazione familiare che in questo momento mi permette di andare ma sono sempre sul aspetta che se succede questo no devi te e quindi devo insomma vedere anche lo stato di salute di qualcuno a casa per cui partiamo fiducia c'è il momento giusto il periodo dell'anno giusto voglio fare questa cosa e via però sappiate che se non riesco a finire il giro che se ah e niente abbiamo fatto quello che abbiamo fatto quindi approfittate il più possibile delle tappe che ci saranno io vorrei portarle in fondo e via e l'ido di ostia orientativamente 15-20 giorni nel senso che non è che posso stare via cioè a un certo punto cambia una seratura di casa se sto via tanto quindi sì verrò a trovare tutti ma dovremmo a un certo punto tornare a casa quindi fatevi un'idea di questa data qui poi la fisseremo orientativamente tappe successive da confermare nel senso che nella mia testa mi sono detto va andrei qui lì lì ho fatto un po' di conti di quello che spendo perché effettivamente lo farò in macchina questo viaggio e insomma costa e quindi mi sono programmato circa 1700-1800 km da fare in un certo giro salvo cose non lo premo vi lascio la sorpresa quindi amici di Maggiolina potrete premere lì andare a vedere e dirvi ah caspita passa vicino a me allora non vado a Siena perché poi mi passa sui piedi magari lo saluto lì eccetera oppure lo aspetto lì do di ostia quindi per avere un'idea di quella che è l'intenzione sempre che funzioni tutto che io non debba tornare a casa perché ho bisogno di tornare a casa perché mi è venuta una nostalgia incredibile perché mi si è rotta la macchina perché 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 mi dà mi dà peso prendere un appuntamento fisso 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 per questo 3-4 giorni prima diciamo a passo di lì dai ci siamo questo riesco riesco a farlo spero che vi piaccia questa cosa fatevelo sapere io comunque penso di godermi il giro se ci riesco ma lo faccio per voi viaggio da solo senza famiglia tutto quanto proprio per incontrarvi quindi approfittatene e da un po' che mi dico sarebbe bello fare questa cosa e vedrete che l'Italia è grande e quindi ci saranno tante persone che dicono ma non passi di qua perché non passi di là ma piace vediamo che piace ci divertiamo ci incontriamo ne facciamo degli altri cioè siamo qui apposta e quindi prenderemo l'occasione in altro modo bene vi lascio qui fate un salto nella pagina dopo adesso rispondo alle domande torno indietro o leggo questo torno indietro torno indietro alla prima riga per giustamente rispondere in ordine fado anche un paio di chat 3-4 chat prima della riga perché mi ero dimenticato di disegnarla Marisa per ora non penso al traguardo mi piace imparare la compagnia di Daniele bravissima grande sì esatto ragazzi per usare il computer non è che c'è un inizio e una fine c'è un momento in cui dici vabbè adesso basta io ho un altro interesse faccio giardinaggio faccio vado in bicicletta piano piano sì ormai lo so usare sono a posto così ho fatto amicizia ho un gruppo e va benissimo così il bello del computer è che c'è sempre qualcosa di nuovo è sempre diverso e quindi dici ma aspetta che guarda quella roba lì è sempre quindi se ti appassiona non finisci mai se a un certo punto invece potrebbe essersi spenta la fiamma va bene però avrei imparato tante cose ciao Luca allora buona serata buona serata Daniele un saluto dalla Sicilia e la Sicilia non ce la facciamo bisognerà fare un giro apposta Luca quando dicevo alla Sicilia era perché c'era un giro in Sicilia che saranno avevo vent'anni quando sono stato in Sicilia magari se torno lì qualche anno me lo scala dovrei prima o poi lo facciamo adesso tra un po' ci sarà caldo per i miei standard e quindi non diciamo niente ma magari quest'autunno se va bene questo giro qua se prendo coraggio Fabio arrivo ora buonasera a tutti ciao Fabio Edo buonasera Daniele buonasera a tutti gli amici collegati ciao Edo Yolando ciao Daniele buonasera a tutti Elena ciao Elena e Edo ha disegnato la riga bravo Nuccia sito favoloso grazie Alfredo buonasera a tutti grazie Nuccia mi fa molto piacere Daniele dice ciao Daniele spegnendo il pc rimane un messaggio di errore dello script della pagina e mi chiede se continuare o no ad eseguire lo script io premo su no ma ogni volta è così sai di cosa si tratta? no nel senso che ok ho presente l'errore perché l'ho visto anch'io in passato ma dovrei vedere il tuo cioè nella tua situazione il tuo computer eccetera e a volte anche vedendo non so cosa fare però senza vedere non ho proprio la possibilità di avere un'idea Agostino ciao Agostino Walter buon pomeriggio a tutti anche a te Walter Luce Daniele puoi fare un video concernente le prenotazioni sanitarie online? eh sì 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 fare le code agli sportelli dell'ASL di appartenenza per fruire di un servizio non è conveniente assolutamente sì guarda avevo anche in mente di farlo ho anche iniziato ma poi quello che dovevo prenotare io non c'è la data e quindi però sì è in vista di fare questa cosa anche se ogni regione probabilmente avrà il suo modus operandi allora Mari Joe dice buonasera a tutti ciao Mari Edo dice ah sta parlando con Luce poi Zucchero ciao ciao Zucchero abbiamo già visto la settimana scorsa il tuo account molto bello ciao Rocky Francesco dice ma perché non si può bloccare le email che ti arrivano in spam perché anche se tu le inserisci a loro interessa mandarle e quindi trovano sempre uno scamotage perché è pubblicità gratuita in definitiva anche se è antipatica ammetti che azzeccano evidentemente paga la cosa e quindi quindi ne riceviamo sempre non c'è niente da fare non si possono fare eccetera eccetera tutto tutti quanti le combattono ma alla fine sei soggetto ciao Giulietta grazie 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 infinite per essere con noi per l'uso della super chat grazie infinite hai sentito che passo dalle tue parti se c'è qualche possibilità mi farebbe piacere incontrarti a Giulietta così senza pressione senza niente altrimenti ci mandiamo un saluto online ovviamente allora poi Francesco ok dello spam Anto dice qua in Romagna sono arrivati i satelliti ah ok per internet agli isolati vabbè dai simpatica questa cosa Francesca la mia firma arriva in automatico come scrivo il testo mi si aggiunge la firma da me personalizzata così non ademile bella idea l'abbiamo visto nei video passati degli anni passati Roberto dice buonasera Daniele a tutti presenti ciao Roberto ciao Mauro Cristina la torta di rose il primo messaggio sul dolce è Cristina che ci ha azzeccato effettivamente la torta di rose è il mio dolce preferito lo dice ridendo perché lo sa proprio sarà la torta di rose ma lei lo sa si è la torta di rose ragazzi poi adesso ci saranno vari Anto il risotto o la pilota perché lei dice ma tutte le volte che fai l'esercizio il risotto o la pilota allora ti piace il risotto mi piace mi piace non saprei dire come scelta principale Francesco dice torta delle mele mi piace assolutamente mi piace poi la torta di rose per Giovanna anche lei lo sa Liliana ciao Daniele ciao Liliana Letizia la torta di rose brava Letizia torta di rose per Cristina Silvana vabbè ha ritirato il messaggio ciao Silvana Claudio torta delle rose prima luna torta delle rose ma lo sapete proprio tutti Michele torta delle rose si vede che lo dico troppo bravi vuol dire che mi seguite torta delle rose torta di rosa per Jacqueline Sergio tirami su o torta di rose Sergio diceva magari da essere stufato della torta di rose mi sa che te li mangi di qualsiasi tipo anche se Olivio ciao Daniele come si fa a mandare un pdf compila pagina dentro via email allora il pdf allora ci saranno mille modi l'ultima volta che lo mandavo io e quindi io adesso farei ancora così senza escogitare nuovi sistemi facevo in questo modo prima hai il pdf quindi lo hai reperito se lo devi scaricare se è un manuale se è una legge se ho il pdf sotto forma di file nel mio computer oppure lo scrivo con il programma di videoscrittura lo salvo come pdf nel mio computer quindi diventa un file nel mio computer e poi lo allego come abbiamo visto con il fiore quindi è un file che sia un pdf una foto o un video della musica eccetera l'unica cosa che diciamo fa importanza che cambia la situazione è la dimensione se è troppo grande non verrà spedito se invece è piccolo qualsiasi cosa sia viene spedita non ho mai pensato e non so se si possa mandare un pdf e trasformare un pdf in corso d'opera e quindi sono già qui con l'email aspetta che la trasforma in pdf non lo so se è quello che mi stai chiedendo Livio però io per adesso nel mio piccolo procederei come sempre devo mandare un pdf prima ce l'ho e poi lo mando Gianluca un bat basta solo comprimerlo se è un file troppo grosso no nel senso che un video o 500 foto le comprimi ma poco il testo ci comprime ma il testo tanto difficilmente occupa troppo spazio anche se fosse la divina commedia ci sta tranquillamente perché le parole occupano poco spazio foto e video tu le comprimi ma diminuisce di un niente e quindi si usa la nuvola si usano i link in passato si usava WeTransfer qualcuno lo usa ancora ma non è comodo come la nuvola quindi la nuvola adesso fa tutto poi Silvana dice Whatsapp backup chiede di accedere ai miei dati account foto eccetera non mi piace bisogna consentire grazie un saluto sì perché deve metterci sopra il backup quindi deve poter accedere al tuo account finora non ha mai non ha mai stato segnalato niente che non va in merito a questo che non accetti non ti fa il backup e quindi è un guaio Lina ciao a tutti è un guaio solo se poi ti servono le cose ovviamente Anto Daniele io ho impostato gmail con 30 secondi per poter annullare l'invio ci sta perché dice è solo allegato 30 secondi ci sta benedetto ah no Giuseppe torta di rose mantovana o soffice e sai che non so la differenza Giuseppe io so che ai vari corsi me le portavano le signore dei corsi erano fatte in casa ed erano fantastiche quindi non so la differenza le ho sempre mangiate magari ho mangiato sia l'una che l'altra è sempre buonissime allora bella idea quella di incontrare gli amici di Maggiolina in viaggio a tappe poi ad Ostia ci sono stato con la famiglia inoltre ho consigliato un posto dove andare a mangiare grande 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 benedetto Sabrina ibiscus era il fiore che ho mostrato esatto ibisco per Piera ma lo sapete tutti flora il fiore della famiglia malva no questa cosa è proprio un ibisco ma chiaramente non si vedeva benissimo benedetto il tuo dolce preferito è la torta è la trota di rose ha scritto benedetto beh ovviamente capisco che è la torta qui questi correttori ne combinano di tutti i colori però ci potrebbe stare allora Enrico per caso nella vostra grandissima collezione di corsi c'è qualcosa su publisher no non abbiamo ancora fatto niente su publisher un po' perché mi sembra che sia un po' messo da parte per lo meno non lo vedo più tanto in giro e poi l'ho sempre usato poco poi saluto Prolion Gamer 57 ciao spero di aver pronunciato giusto Claudia bella iniziativa davvero grazie Claudia Umberto da circa due mesi dopo circa 30 minuti YouTube mi manda messaggi interrompendo la lezione e alla fine di un tempo di due o tre minuti riprende la lezione cosa posso fare? bisognerebbe sapere qual è il messaggio Umberto allora senza vedere è difficile ma almeno sapere il messaggio del perché di che cosa ti dice potrebbe darci un indizio senza non saprei non saprei dirti saluti alla mia mamma saluti di mia mamma ok ciao mamma di Rocky se ciao mi fa piacere che ti piacciono i nostri video lo dico io che ti piacciono mi fa piacere che ti piacciono Sabrina in Sicilia qualche volta verrai mi hai già sentito sì è perché per venire in Sicilia devo già fare un sacco di chilometri ma potrei prendere l'aereo potrei prendere il treno ma mi piace farli in macchina questi viaggi in Sicilia è un po' lunga ma ci verrò perché è sulla mia lista Girocat quindi non subito Girocat anche lui dice in Sicilia ti aspettiamo allora ragazzi mi hanno invitato solo in Sicilia quasi quasi tiro dritto e vado in Sicilia poi facciamo facciamo il pranzo a Taormina allora a questo punto no vediamo dai Sergio Daniele ti consiglio una visita nel Delta del Po grazie Sergio infatti mi hai già suggerito anche il mangiare e devo dire che lo conosco abbastanza il Delta del Po perché alla fine è un mare abbastanza vicino è forse uno dei mari più vicini che ho e sicuramente passerò ma non in questo non in questo viaggio Anto comunque a parte Cosellice qua in Romagna Cervi e Cesenatico sono già pronte più belle di prima però 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 è sempre sempre in gamba i romagnoli i romagnoli non avevo dubbi Daniele in Sicilia non viene vedi Giacomo Gioacchino è uscito in tanti dalla Sicilia ragazzi Zoe buonasera a tutti Gino dunque al salta hai saltato la mia domanda perché Gino forse non l'ho vista forse quindi di solito quando succede questo che ne ricevo un sacco rifatela perché tanto anche se la leggo due volte non succede niente dico so che è perché magari non l'ho vista eccetera perdonatemi di solito parto dalla riga che viene disegnata e vengo in giù quindi poi se la troviamo ci proviamo Gino se no scrivimi a info chioccio l'associazione maggiolina.it mi servono sei paia di occhiali Gino per vedere tutto qua Lina mi piace mi spiace ma devo andare via ciao Daniele e tutti quelli della cercia ciao Lina Luce Edo per avere una infarinatura ok quello sta parlando con Edo Ezio mi scuso per non poter partecipare in diretta alla lezione va bene pazienza Ezio siamo qui apposta alla lezione registrata appositamente Leandro allora buonasera a tutti e ciao Daniele hai notizie riguardo all'intelligenza artificiale di Google complimenti e grazie per la lezione saluti da Monsumano Terme Pistoia direi che è Pt allora discorso intelligenza artificiale e mi fa venire in mente una cosa che non ho detto in questo giro capiterà che chiaramente non vado in Sicilia non vado nel Delta del Po non vado in tanti posti perché l'Italia è grande e in tanti posti non vado però cercheremo di fare condivisione lo stesso che anche per chi non potrà venire a salutarmi per chi magari non ha voglia di venire a salutarmi e faremo delle videoconferenze quindi tornerò a fare videoconferenze in queste due settimane insomma nel tempo che starò in giro farò varie videoconferenze quindi qui in questa pagina aggiungerò anche videoconferenze anche perché starò in giro da solo avrò bisogno che mi facciate compagnia e parleremo di vari argomenti uno è quello dell'intelligenza artificiale quindi in conferenza dove possiamo sentirci e avere il botto e risposta possiamo fare diciamo un ragionamento insieme e auto definire la cosa farci una teoria poi quello che pensate io dico quello che penso eccetera e raggiungere una sintesi del tutto quindi anche per questo motivo se siete amici di Maggiolina se ci avete sostenuto eccetera partecipate qui dici vabbè tanto meno interessa vedere Daniele ma magari venite a una videoconferenza conferenza uno può anche entrare e non dire niente ascolto e basta e quindi ci sta metterò i vari link quindi questa pagina tenetela guardata tutti i giorni a partire da domenica in avanti ma io consiglio già di guardarla tutti i giorni già adesso perché se mi viene in mente qualcosa la scrivo qui mandatemi dei suggerimenti info chioccio l'associazione maggiolina.it o al numero whatsapp che poi troverete qua per qualsiasi cosa perché è la prima volta che lo facciamo e quindi magari voglio fare non voglio trovarmi aver fatto tutto il giro e dire ma pensa se facciamo quella cosa lì era più bello quindi suggerite domenico dice consiglio di visitare anche il Molise assolutamente allora si chiama Silvana ciao Silvana ciao Silvana grazie per essere qui con noi e grazie per guardare i nostri video grazie 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 allora Umberto dice video pubblicitari e non messaggi ah ok la pubblicità c'è adesso ho capito Umberto esce random cioè a caso perché perché serve in sostanza per tenere insieme tutto l'ambaradan di youtube noi tutto quanto insomma sappiate che serve e quindi c'è in sostanza Francesco dopo potresti venire a Modena caspita a Modena Francesco potrei anche venire magari non è detto che non venga che quindi che finisca a Modena ma posso dire di aver passato gli ultimi nove mesi più a Modena che a casa e quindi averlo saputo prima ci potevamo incontrare lì perché ho mio figlio a Modena e un po' di cose insomma e quindi dai tu scrivimi l'email eccetera Modena è quasi è quasi una seconda casa per me quindi magari ci vediamo lì Aldo allora ciao Daniele scusa in ritardo un saluto a tutti gli amici ciao Aldo grazie grazie infinite da super chat non l'avevo vista grazie infinite Marcella dice ti aspetto anche ti aspetta anche la Sardegna assolutamente sì perché anche lì avevo vent'anni quando ci sono andato Sicilia e Servenia per lavoro e secondo me se torno lì sei sette anni tra tutte e due poi una decina d'anni me le levano perché i posti meritano e secondo me mi sento di dieci anni più giovane almeno che non sarebbe male allora vediamo Marcello abbiamo visto Ivano quando farai uscire il video nuovo sullo spazio di archiviazione uno l'ho già fatto e quindi già quello sicuramente la settimana la settimana prossima lo vedremo e cercherò di farne altri due o tre cioè nel senso mettere insieme gli altri due o tre su questo argomento prima di partire perché quelli lì li posso fare solo da casa e quindi comunque uno sicuro e probabilmente due arrivano la settimana prossima o nelle prossime settimane uno la settimana prossima sia sicuro che è l'incip il punto di partenza eccetera la cosa fondamentale da fare prima di cominciare e poi arriveranno anche gli altri ok ragazzi 138 mi piace se ma dite ma caspita mi sono dimenticato di mettere mi piace aspetta che potete sempre metterlo adesso quindi facciamo andare su mi piace se vi è piaciuto e niente commentate fatevi sentire per questa cosa qui perché io il giro lo faccio e mi farebbe piacere farlo insieme a voi e basta ci vediamo mercoledì prossimo in diretta mercoledì prossimo sarò in giro sarò on the road come mi avete visto appunto a Modena con la macchina e quindi sarà tutto fatto fuori per cui ci saranno video diversi perché magari mi troverò in situazioni in cui avrò bisogno di cose diverse dal solito e quindi chissà che video faremo e vedremo come sarà sappiate che se manca qualcosa è perché c'è stato qualche problema eccetera ma arriviamo mercoledì alle 18 la diretta se non sarà alle 18 se non sarà mercoledì vuol dire che c'è stato qualche problema ma avviserò sempre sul sito amici di Maggiolina o come con un post su YouTube la prossima volta vi farò vedere questa cosa qui magari lo faccio vedere in un prossimo video così sapete anche gestire i post di YouTube e vedere se scrivo qualcosa oltre a mettere i video perché adesso magari che sono in giro qualcosa mi verrà da scrivere ok mi piace sono andati su grazie grazie infinite e di nuovo grazie a tutti gli amici che ci sostengono e ci vediamo in diretta mercoledì prossimo e ci vediamo dal vivo la settimana prossima a partire da lunedì ciao ragazzi devo andare a schiacciare i bottoni giusti e buona serata e arrivederci a presto quindi il bottone giusto è questo ciao ciao ciao